L'edificio era stato totalmente e pericolosamente modificato rispetto al progetto iniziale e all'iniziale destinazione d'uso, per questo la casa dello studente dell'Aquila era un edificio destinato a crollare sotto il sisma del 6 aprile 2009. I tre ingegneri che curarono la ristrutturazione nel 2000 e anche l'architetto responsabile del collaudo avrebbero dovuto invece controllare nuovi carichi di peso che gravavano sull'edificio, edificio, lo ricordiamo, costruito nel 1965 dalla casa farmaceutica Angelini e avrebbero dovuto controllare anche la tenuta statica del palazzo prima di andare ad eseguire gli interventi che hanno poi di fatto aggravato gli effetti del crollo. Il 6 aprile, all'interno della casa dello studente, morirono sei studenti e il portiere dello stabile. Questo si legge nelle motivazioni della Cassazione che sono state depositate. Il verdetto di fatto ha confermato le condanne a quattro anni di reclusione per gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rosicone e a due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani, il presidente della commissione collaudo dell'azienda per il diritto agli studi universitari. Se è vero che non è addebitabile agli imputati la realizzazione di una variazione d'uso dell'immobile Palazzo Angelini, si legge, poiché essi lo trovarono già adibito e da tempo astudentato, è altrettanto innegabile, scrive ancora la Cassazione, condividendo il verdetto di merito, subentrati per così dire in una situazione connotata da una variazione d'uso, di fatto, ormai già realizzata da anni, hanno sicuramente trascurato che la casa dello studente è stata trasformata da edificio realizzato negli anni Sessanta, destinato ad abitazioni private, in una vera e propria struttura alberghiera, munita di tutte le relazioni di dotazioni, che ne hanno palesemente stravolto l'originaria conformazione interna. Il Palazzo, sottolineano anche i supremi giudici sulla scorta della sentenza d'appello del 28 aprile 2015, è stato in tutto e per tutto modificato, rimanendo tuttavia identico all'originale, soltanto per ciò che attiene alle sue componenti statiche, rispetto alle quali nei progettisti, nel collaudatore, si sono minimamente posti il problema se tutto quello che era stato realizzato, con le radicali e totali modificazioni conseguite, fosse ancora compatibile con quanto era stato progettato e valutato, quasi 40 anni prima e per tutt'altra destinazione. Irrilevante, scrive ancora la Cassazione, è la regolarità o meno dei lavori eseguiti prima degli interventi curati dagli ingegneri pace, centofanti e rosiconi, e va al riguardo affermato con la necessaria chiarezza, scrivono ancora, che in base a quanto prescritto dalle norme del Ministero dei Lavori Pubblici del 1996, deve essere calcolato sull'assetto originario d'edificio, rispetto al quale il progettista e il direttore dei lavori che si accingono a progettare e a realizzare hanno, secondo logica elementare e prudenza, l'obbligo preliminare di verificare se si siano meno verificati in medio tempo reinterventi indifferentemente regolari o no, autorizzati o no, che abbiano comunque già alterato in maniera significativa i originari equilibri. Confermato per i tre ingegneri anche il no alle attenuanti generiche per la gravità dei fatti, essendo l'immobile destinato ad ospitare dei giovani. Per quanto riguarda invece la responsabilità di Sebastiana ad avviso della Cassazione, risulta tranciante il rilievo, oppure correntemente svolto dai giudici di merito, secondo cui la licenza edilizia rilasciata dal Comune dell'Aquila in data 28 dicembre 1999, richiedeva il collaudo statico dell'immobile, che nessuno risulta invece avere svolto.